E a tal proposito abbiamo qui uno dei promotori di queste manifestazioni in difesa della famiglia uno che di famiglie per ovvie ragioni se ne intende il portavoce di Italia Sovrana Eugenio Ripamonti Müller-Rodescalchi Buonasera a lei Ferrario Allora io qui caro onorevole le devo fare un po' una tiratina d'orecchie a lei e ai suoi colleghi politici che ogni tanto ci fate un po' arrabbicchiare perché voi vi state impegnando o no per una difesa, un attacco, un contropiede della famiglia italiana Qual è la vostra posizione? Vede Ferrario io quando parlo di famiglia tradizionale mi aggrappo alla pietà amica e l'angiolesca che riflette perfettamente i nostri valori La famiglia non è tipo il caffè che si può avere caldo, freddo, corto, in tazza grande con spolverata di cacao La famiglia è una ed è quella tradizionale fatta come la facevano le nostre nonne Oh e qui cade l'asino perché caro Descalchi io questa definizione di famiglia tradizionale proprio non l'ho trovata La trovo nel dizionario? Nell'enciclopedia? Non so chiedo all'ingegnere Sabelli del terzo piano Ma scusi Ferrario guardi che non serve tutta questa fatica Basta prendere dallo scaffale la nostra amatissima Costituzione aprirla e si scopre che la famiglia tradizionale è composta in questo modo Un uomo e una donna che si amano tutti i giorni L'amour toujours come diceva D'Agostino Poporopo, 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 però onorevole Costituzione è amatissima non mi sembra visto che mi sa che la conosco meglio io di lei perché lo abbiamo visto all'inizio di questa puntata non c'è alcuna definizione del genere Non c'è Mi scusi Ferrario ma la Costituzione non è quella coi due libri alla fine e ci sono gli atti dei costituenti? No aspetti che edizione c'ha? Non è quella che inizia con in principio De Gasperi creò il cielo e la terra? No De Scalchi quella è la Bibbia, si sta confondendo con la Bibbia Adesso lei mi viene a dire che in Costituzione non c'è il momento in cui i dodici padri costituenti salgono sul monte Saragat per scrivere le tavole della legge? Quelli erano i dodici apostoli, poi le ha scritte Mosè E quando Andreotti chiese a Togliatti di sacrificare suo figlio per salvare Moro? Scalchi lei deve rifare l'esame di catechismo secondo me Vabbè questa è la sua opinione, io la mia, ne riparleremo nel Regno dei Cieli E comunque nessuno di noi ha detto di non contemplare le sfumature, le diverse anime e gradazioni di questa famiglia tradizionale Quindi si rimangia quello che ha detto, attenzione Signor Ferrari, noi siamo consapevoli che non esiste soltanto il bianco e il nero e ci sono anche dei colori molto brutti in mezzo Anche noi siamo per le aperture, anche noi abbiamo i nostri LGBT Abbiamo i VFSL, violenti, fedifraghi, separati in casa e laici Diverse versioni della famiglia tradizionale E non venite a dirci che non siamo inclusivi Vabbè, non onorevole, diciamo che si è salvato in corner Viva la famiglia, lo possiamo dire? Purché sia tradizionale A noi gli unici remix che piacciono sono quelli di Gigi D'Agostino Tipo? Tipo, non so, Un giorno credi è una delle mie preferite Ah, quella di Bennato, come fa? Un giorno credi di essere giusto e di essere un grande uomo, eccetera Uguale praticamente Sì, ma con la cassa sotto Bravo, va bene, grazie Eugenio Ripamonti, Milo e Rodescacchi Per essere stato con noi a Paese Reale Dunque